Musica Gentile pubblico buongiorno e ben arrivati nel salottino della musica vi do il buon ferragosto, siamo arrivati anche a metà mese e in questo giorno festivo siamo qui pronti come sempre per tenervi in compagnia con la nostra musica oggi puntata speciale perché vi presenteremo le orchestre che proprio questa sera saranno protagoniste delle nostre feste di piazza precisamente si parte con Stefania e Mamma Mia Band che sarà a Salizzole e subito dopo Alex Marossi che sarà a Bure di San Pietro in Cariano e iniziamo così il nostro lunedì caro papà vorrei parlarti un po' non ho il coraggio e te lo scriverò quello che sento e non ti ho detto mai e spero tanto che lo leggerai ti vedo stanco e parli poco ormai chissà nel cuore che rimpianti hai forse dei giorni della gioventù o di quei sogni che non sogni più papà non preoccuparti qui ci sono io papà se non bastasse parlerò con Dio avrà le gambe mie per camminare e la mia voce se vorrai gridare e la mia mano stringerà la tua e i lunghi giorni di malinconia se vorrai piangere ti abbraccerò se vorrai ridere io riderò non dirmi niente basterà uno sguardo ti giuro amore sopra questo foglio caro papà non voglio ricordare tutte le volte che ti ho fatto male di quei tuoi nomi racchiusi in un silenzio ma solo adesso ne comprendo il senso l'orologio non si ferma mai vorrei donarti un po' degli anni miei sei sempre stata la mia roccia e tu ti fa paura non vederti più papà sei ancora forte se ci credi ancora papà per il tuo futuro non aver paura avrai le gambe mie per camminare e la mia voce se vorrai gridare e la mia mano stringe la tua e la mia mano stringe la nostra noi subisciano comag mä la mia mano stringe la nostra e la mia mano stringe la nostra Grazie a tutti. 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 Sagra del Cezon, San Pietro in Valle, Verona. Grazie a tutti. 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 Vi ricordiamo che vi ricordiamo che nel mese di agosto siamo sempre aperti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.